Playoff anche in promozione con la Bucinese che peraltro ancora non conosce l'avversario dell'ipotetica finale visto il contemporaneo spareggio tra Foiano e Pontassieve. La cronaca di quest'ultima settimana di allenamenti è affidata all'ormai ristabilito Paolo Baculias. Stiamo lavorando veramente bene in un posto con molta serenità, una società che è sempre presente, un gruppo di ragazzi bravissimi. Ora pensiamo a passare domenica e poi dopo vediamo chi ci tocca. L'importante è che ci tocchi qualcuno. La storia personale del centrocampista peraltro ha vissuto momenti molto forti in questa stagione ma il rischio dello scorso agosto con l'intervento chirurgico cerebrale salvavita sembra davvero appartenere al passato. Fortunatamente anche il tempo ora è dalla mia parte e magari ci sta che posso dare una mano anche io ai miei compagni. Sicuramente la condizione fisica dopo tutto quello che l'ho passato ho avuto bisogno di questi 4-5 mesi per riprenderla. Adesso diciamo che mi sento quasi quello di prima. Basta il pareggio, questo il sunto dei temi relativi a domani. Abbiamo due risultati su tre anche se sono 120 minuti e non più sono 90 e dopo bisogna dare tutto. L'importante è passare questa prima, dai.